Da lunedì parte il cantiere per la nuova pavimentazione di Corso Vittorio Emanuele e Corso Federico II in centro storico. Il primo tratto cantierizzato sarà quello dai quattro cantoni a Piazza Duomo. L'appalto da 3,7 milioni di euro se l'ha giudicato la ditta aquilana Rosa Edilizia. L'opera complessivamente costerà intorno ai 5 milioni di euro. Grazie per la collaborazione, scusate il disagio, il Comune lo ha scritto nei tabelloni che annunciano i lavori, chiedendo scuse in anticipo dunque per i disagi che inevitabilmente si creeranno. Ma si tratta di lavori necessari e del resto i commercianti aquilani le difficoltà le conoscono bene. Basti pensare ai sottoservizi. Li viviamo in ottica di una ricostruzione, quindi vicino a tutti quelli che devono fare questi lavori, e quindi saremo accanto al Comune, a tutte le persone che dovranno lavorare. I disagi li sentiremo, ma ci sentiremo sollevati dal fatto che avremo dopo una città più vivibile, più bella. Stiamo lavorando tutti per questo grande sogno, di riportare a vivere questa città. C'è stata collaborazione con il Comune perché i lavori sarebbero dovuti iniziare prima, poi si è deciso di farvi fare almeno l'estate. Che estate è stata? È stata un'estate bella, un'estate che ci ha riempito di speranze per il futuro. Abbiamo tamponato quello che è un momento duro, durissimo per tutta l'Italia, per tutta l'Europa. Siamo riusciti ad arrivare a fine di quest'estate, cercando di tamponare piccole perdite che ci possono essere state. Cambierà ovviamente la viabilità pedonale. Si potrà costeggiare il cantiere usando dei percorsi lasciati liberi, usando i porti, centro natale. I lavori dovrebbero essere conclusi dopo le feste, però dovrebbero partire altri due lotti, intorno al 15 gennaio. Il primo dai quattro cantoni verso il corso stretto, l'altro sul corso Federico II. Le lavorazioni complessive dovrebbero durare per un annetto. Oltre a questo sarà realizzato l'impianto di pubblica illuminazione. Per pavimentare sarà usata una pietra locale bianca a avorio. Ci saranno anche dei dispositivi e degli accorgimenti che permetteranno riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per non vedenti e poi vedenti. E con la nuova illuminazione prevista si avranno risultati sul piano dell'inquinamento luminoso e ci sarà un bel effetto scenografico grazie all'illuminazione delle facciate dei palazzi. I fondi sono quelli che si sarebbero dovuti usare per la riqualificazione di via della Croce Rossa. Poi problemi attuativi hanno spinto verso questo progetto.